Buongiorno a tutti, oggi parliamo della biosistemica. La biosistemica è un approccio di tipo psicologico che si usa in psicoterapia e in counseling ed è un approccio abbastanza innovativo che fonde vari metodi. Bio viene da biologia, quindi si parte comunque da una struttura, da delle teorie biologiche, specialmente neurofisiologiche. Sistemica invece viene dall'unione, dalla fusione di pensiero, azione ed emozione. Questi tre elementi sono intercorrelati, si influenzano la vicenda in modo sistemico, quindi nessuno dei tre è indipendente dall'altro all'interno di una personalità, all'interno di una persona. Quindi abbiamo questa triade, persona, pensiero, scusate, azione e emozione. Di solito il punto da cui si parte è il pensiero, quindi il verbale. Una persona racconta di sé, racconta che cosa è successo, racconta che cosa ha provato o che cosa ha fatto. Ecco, durante questo racconto, quindi durante la fase di esternazione verbale, nascono nella persona delle emozioni e a volte vengono anche fatti, vengono anche messi in atto degli atti, delle azioni che possono essere più o meno inconsapevoli. Quindi l'esplorazione parte dal verbale, passa dall'emozione, dai fattori emotivi che vengono esplorati sin dal loro nascere fino al loro cessare. Si parla infatti di curva dell'emozione, a volte le nostre emozioni vengono come interrotte, quindi parte una curva dell'emozione e l'emozione si interrompe, perché magari non ci diamo il permesso di viverla, quell'emozione, fino in fondo. Invece quello che è importante per quanto riguarda le emozioni, e usando proprio il verbale come metodo per esplorarle, è farla nascere e fare in modo che questa emozione si compia, diciamo così, torni a cessare così come era nata prima, all'inizio, in modo quasi naturale. E lo sentiamo dentro quando un'emozione cessa in modo naturale, oppure quando viene interrotta bruscamente. E quando viene interrotta bruscamente è bene esplorarla. E questa è una cosa che possiamo provare a fare anche da soli, semplicemente fermandoci. Quando proviamo un'emozione che sentiamo essere non solo forte, ma comunque importante e molto profonda, ecco, fermiamoci e vediamo come quell'emozione si evolve. Cerchiamo di fare in modo che quell'emozione si evolva in modo naturale. Quindi abbiamo detto parole, quindi la parte verbale, espressività emotiva e espressività nei gesti. I nostri gesti dicono molto, quasi tutto direi, di quello che sentiamo dentro. Spesso non c'è il verbale, ma c'è un'emozione e c'è un gesto associato all'emozione. E quando guardiamo la persona, dal gesto che fa, specialmente se è un gesto istintivo ed inconsapevole, capiamo anche la sua emozione. Quindi una persona che sbatte il pugno sulla sedia è probabilmente arrabbiata o infastidita o qualcosa del genere. Com'è questo pugno sbattuto sulla sedia? È un pugno sbattuto in modo bloccato senza appunto quella naturale evoluzione che ha anche l'emozione e quindi anche l'emozione si blocca? Oppure è un gesto bello, ampio, che comunque inizia e poi finisce e scarica tutta l'emozione. Quindi compiendo, arrivando al cessare naturale di quella emozione. Ecco, tutti questi elementi vengono presi in considerazione appunto dalla biosistemica perché sono tutti collegati, perché noi siamo fatti di pensieri, di emozioni e di azioni e quindi non sarebbe, diciamo così, giusto ed esaustivo vedere solo una parte della persona. Ma la persona va comunque vista e compresa nella sua totalità, nella sua totalità di pensieri, di azioni e di emozioni. Ecco, questo è appunto quello che facciamo all'interno del metodo biosistemico. Tutto questo, come vi dicevo prima, si basa su delle teorie e delle sperimentazioni, anche che partono dalla neurofisiologia, quindi si parte un po' da quello che è il sistema nervoso autonomo, specialmente quindi sistema simpatico, sistema parasimpatico. Si parte dal livello di attivazione che una persona, se una persona è sempre molto attiva, molto nervosa, si muove di qua e di là, oppure se una persona tende un po' verso la depressione, quindi verso la calma e si cerca di esplorare la polarità inversa. Quindi una persona molto attiva, che cosa succede quando mi calmo? Per una persona che invece tende alla calma, che cosa succede quando mi attivo? Provo ad attivarmi, è una cosa che non sono abituato a fare, che però è importante, è complementare un po' quello che io sono, ma è comunque parte di me, mi aiuta ad ampliare le mie possibilità di risposta emotiva, verbale e di azione alle situazioni della vita. L'obiettivo finale di tutto è proprio quello, cercare di avere più possibilità di risposta e avere una risposta comunque buona per me, che mi faccia stare bene, alle varie situazioni della vita nelle quali ci incontriamo, ci troviamo a vivere delle difficoltà. Questa è un po' la finalità comunque di tutto, stare meglio, il benessere. Grazie.